ti prego e allora vai stavo cadendo e allora cosa facciamo fare? vuoi fare ballare? no ballare no per favore se lo dico di ballare ti mando a quel paese subito così diretto piuttosto una domanda domanda sei pronto? come si chiama l'Eden Village Premium che abbiamo a Santo Domingo? nooo quello è un Selected by Eden Formula Village no l'Eden Village Premium è un altro che inizia con Gran Dominicus l'abbiamo fatta prego prego puoi prendere mezza busta dai una o due facciamo due 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 dai due eh sì è arrivato bello e allora ricordati il tuo nome Leonardo Leonardo le vuoi cambiare?